Benvenuti su Ultimissima. Ha sconvolto tutti i follower una confessione di Belen. Ma prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Dopo la controversia sui social con Antonino Spinalbese, l'ex compagno e padre di Luna Marie, Belen Rodriguez, ha deciso di recarsi in Argentina. Nell'ultima intervista rilasciata a domenica in, l'ex di De Martino ha sottolineato ripetutamente quanto fosse profonda la sua mancanza per la terra natia. E così, senza penserci due volte, Rodriguez ha scelto di festeggiare il capodanno e l'inizio del 2024 tornando nella sua terra natia. Accanto a lei, insieme alla sua famiglia e ai suoi due figli, c'è il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Attraverso i canali social, Belen ha registrato il suo arrivo in Argentina. Per Belen Rodriguez è un ritorno alle sue origini, mentre per Elio rappresenta la sua prima visita nel paese. Un passo di rilievo quello intrapreso dalla showgirl argentina, nonostante il fidanzamento sia abbastanza recente e, soprattutto, considerando che fino a quel momento solo De Martino aveva goduto di tale privilegio. Ancora una volta, emerge chiaramente quanto Belen sia perdutamente innamorata del suo nuovo compagno. Una vacanza all'insegna del riposo, Belen ha optato per iniziare con una cena romantica a Buenos Aires, come dimostrato nelle sue storie su Instagram. Qual è la vostra opinione? Se vuoi condividere il tuo parere, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.